Siamo davanti all'auditorium Flaiano, è proprio il Flaiano, è il punto al centro, i premi Flaiano, al punto di questa conferenza stampa che avete indetto questa mattina, Pescara, che rischia di perdere il premio più importante in città. Prosegue la desertificazione culturale di questa città, ad opera di questa giunta, in una maniera che neanche noi ci possiamo immaginare. Dopo aver spento tutto ciò che è nuovo, interessante, stava crescendo in questi anni a Pescara, dopo aver chiuso i rubinetti a tutte le centinaia iniziative cittadine, facendo un unico festival su cui tutto era concentrato a livello economico, il Festival d'Annunziano, si arriva addirittura a picconare uno dei capisaldi culturali di questa regione. All'inizio di quest'estate, a fronte di un programma culturale piuttosto sbiadito e insufficiente, ci si vantava dell'ente manifestazione e del primo Flaiano, che sono due istituzioni importantissime nei quali il Comune non ha nessun merito, perché esistono, come sappiamo, da moltissimo tempo. Ebbene adesso riescono a far fare, come dire, attestate da questi enti, tra l'ente manifestazione che viene a negare lo spazio al proprio interno, ai primi Flaiano, che sono appunto una delle poche cose rimaste in piedi, ancora con grande valore, grande pressione, grande partecipazione in questa regione. Beh, è una cosa incredibile. Se non ha giunto, non riesce neanche a far sì che ci sia una sintonia tra le vari enti e non batte ciglio dinanzi alla possibilità gravissima e unica nella storia di questa città che il primo Flaiano vadano addirittura in un'altra città, beh, credo proprio che questa amministrazione continui a dimostrare che non importa nulla della cultura, che però è una delle cose principali e più importanti della vita di questa città, che sa amare e frequentare la cultura, nonostante questa giunta voglia il contrario. Il sindaco comunque in questi giorni ha già detto che non ci sarà nessun pericolo perché il premio Flaiano possa uscire fuori dalle mura della città di Pescara, ci credete? Naturalmente io ho fiducia nelle parole del sindaco, ma è gravissimo che si sia ad oggi risposto un no alla possibilità di organizzare il ferro a Pescara. Poi si può porre rimedio, sicuramente noi sosteremo, qualunque ipotesi che possa porre rimedio a questa, che penserà il sindaco o altri, siamo assolutamente a favore, deve rimanere a Pescara. Spero soltanto che si sia creato questo grave incidente, questo rischio concreto che su tutti i giornali di oggi, beh è una cosa davvero davvero che non ci aspettavamo.